che c'è scritto qua che c'è scritto qua buone notizie in casa juventus a meno una com'è per quanto riguarda i condizioni federo chiesa l'attaccante bianconero che si era fermato negli ultimi giorni per infortunio e aveva lasciato il ritro nazionale ha svolto i primi esami strumentali e le sensazioni sembrano le sue positive in vista alla posta giornata di contro i cannefotti mi raccomando chiesa ci devi essere contro i cannefotti mi raccomando se no chi segna chi segna vlaulic top player con la Lazio segnerà ma speriamo sta cazzo del Lazio qua che vince a napoli abbiamo paura della Lazio stai calmo magari adesso vincerà stai calmo che così sulle squadre la Lazio vince a Napoli e perde con Juve e perde con Genova e con Lecce quindi stiamo calmo stiamo calmo ma con allegri c'è poco da stare allegri comunque buon sabato buon sabato italiani popolo guarda ah guarda mi ero guarda io sono sempre stato italiano un italiano vero tanto tanto buongiorno Italia buongiorno Maria e gravina disputo con l'anima mia comunque diciamo che nel mio cuore sarò sempre italiano perché c'è valori antichi tradizionali che in Bari e Palermo è sempre stato un tradizionalista a me queste cose modenne fino a un certo punto fino a un certo punto infatti questa sera riguardano l'Italia ma c'è da dire che per riguardare l'Italia insomma sono più che altro curioso che vediamo vediamo perché c'è Spalletta attenzione visto che Spalletta gioca un bel calcio offensivo ho visto la formazione 4-3-3 soltanto ripeto la vedo soltanto per la curiosità però per farmi rinnamorare di nuovo ma non solo io per rinnamorarci dell'Italia ce ne vuole tempo soprattutto per noi vivendini che gravina ha fatto abbastanza cose gravi contro di noi eh capito ne ha fatto tanti proprio porcate contro di noi va bene quindi a noi vivendini a sciapete a sciapete cosa ci hanno combinato a noi a sciapete allora questo processo a Torino può passare a Roma processo Prisma riapriamo di nuovo ormai cosa i cose sono state fatte basta ormai la gente è stata punita per l'ennesima volta e gli altri capito fanno fanno così tutti i ladri però hanno a piccare sempre un colpevole no tu sei più ladro e gli altri niente capito ecco perché noi ci ingazziamo capito dai la legge non è uguale per tutti solo la Juvenza deve pagare non va a pagare mai gli altri non va a pagare mai niente guarda e la puttana guarda comunque ma mi interessa più Prisma la sta cosa che fanno anche i video a Roma portata non succederà niente ormai la Juvenza ha patteggiato purtroppo ma purtroppo si vise a pecorina basta ormai è una cosa più calcio per i segnali parati c'è una cosa loro per si vuole un po' con i soldi cosa era di loro a noi non ci deve sapere niente ormai il passato è passato è stato accantonato e bisogna andare avanti comunque stasera ragazzi questo è un video diciamo riguardante non avendo i pronostici della serie A purtroppo ormai se ne parla questa settimana e io mi rompo in casa stasera azione anche per questo e meno male che chiesa comunque non c'è a meno dico non c'è niente no perché già sul fatto che ieri avevo visto un po' di video e anche in tv ah io chiesa infortunata se minchio guarda ma chieru si spara ma chieru ha faticato muscolare all'adduttore chieru si spara una partita soprattutto nel secondo tempo contro l'embro si vise una rani falcata poi si è caduto si è ripreso chieru era stango già era normale era normale va bene comunque meno male che non ha giocato così almeno Calazzo gioca detto questo ragazzi vabbè io ripeto voglio dare una combo per stasera dei pronostici io dico questa sera giocheremo chi vuole giocare il gioco 20 euro ne vinchio quasi doppio ugualmente quasi 38 e qualcosa quindi 18 euro netti netti penso di vincere poi vedete da voi Ucraina e Inghilterra giocheremo la combo Ucraina e Inghilterra 2 e a Macedonia e a Macedonia vedremo se faremo questa bellissima a Macedonia questa sera contro l'Italia dico 2 dico il mio pronostico dico il mio pronostico vedremo se riesco a cercare questo pronostico dunque Macedonia 0 Italia 3 va bene Macedonia 0 Italia 3 gol di gol di gol di immobile capitano sul ricordo magari che lo segno va bene ancora l'Italia c'è ancora con immobile stavamo rendendo conto detto questo detto questo ripeto stasera la guardo soltanto per la mia curiosità no perché a livello di affetto perché ripeto l'Italia questa Italia su tutti questi di questa gentaglia che ci lavora che ci gioca mi viene il vomito non so se in giro quindi stasera vedremo comunque sarà la prima di spalletti vediamo se vinceremo contro lo sparacchio macedonia del nord va bene già con questa squadra ha avuto un problema l'ha avuto con Mangini quindi buon joy questo volevo dire combo su ripeto sia macedonia Italia e mi fido di d'Inghilterra ucraina va bene due fisso due fisso un 84 più 16 20 euro saranno un 37 38 euro spiccioli va bene vi saluto fino alla fine sempre comunque forza iuva va bene ciao